ebbene sì siamo al terzo set siamo al terzo set siamo 2 7 a 0 per sinner ora diciamo che fritz si è portato avanti poi c'è stato il contro break di sinner adesso sono sul sul 30 15 però solo siamo su sei giochi a 5 persino era attenzione il servizio di fritz e mi sa che attenzione attenzione due match point per sinner due match poi fritz ha fatto una cagata in vera e conta adesso fritz ha fatto una cagata davvero in vera e conta aveva praticamente tutto il campo a disposizione la ha buttato una palla letteralmente nel cesso e adesso jannick sinner a due match point signori ea 2 match point dal trionfo agli open negli stati uniti jannick sinner vediamo un po vediamo un po full o no dai il doppio fallo definita dai dai jannick dai dai ragazzi la forza mentale di questo ragazzo spaventosa si non sarà avvento signori avvento jannick sinner vince gli open degli stati uniti signori jannick sinner vince gli open degli stati uniti che devo dire ragazzi la forza mental questo ragazzo io lo dico subito non sarà natal non sarà federer dei tempi d'oro intendo io me che meno gioco vici per il quale io tifo però ragazzi questo ragazzo una forza mentale un carro armato dal punto di vista mentale è un carro armato non si scompone non si scompone grande i anni che signori ha vinto il secondo slam in un anno e non ricordo se c'è mai riuscito un italiano e mi sa proprio di no io ai tempi di panatta barazzutti lo avevo un anno un anno e mezzo avevo che cazzo se li ricorda ma questo risultate la mano rischia di essere a me diventare il tenista italiano più forte di tutti i tempi se non lo è già e se non lo è già che di raga è il doping e l'infortunio all'anca questo e quest'altro questo si è rimesso in assaltato le olimpiadi questo si è rimesso in careggiata è vero che rispetto a all'australia ha avuto un po più la strada spianata gioco vici al carazzo non salutato la compagnia molto presto e ma poi ha ritrovato medvedere che aveva battuto in finale quella strepitosa rimonta l'ha praticamente distrutto ragazzi un carro armato questo ragazzo dal punto di vista mentale chapeau 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 e io veramente non so cosa provare per chi non lo definisce italiano questo qua ma che stronzata è quindi gli argentini non devono sentire argentini messi passarella bertoni mascherano e tutti gli altri perché hanno tutte origini italiane ma che cazzo di discorsi fate grande i anni grande suppongo si chiami così in ossequio a yannick noa grande tennista francese degli anni 80 primi 90 eh signori eh tanto di cappello ragazzo eh non possiamo che essere orgogliosi di te poi ragazzi dinanzi a quel parterre del one sarebbero tremate le gambe ma mai avete visto chi cazzo si steva lì all'incontro cioè taylor swift elon musk e non so quante altre personalità bon jovi non so quante personalità che mi sono sfuggite ragazzi no e a me sarebbe venuta la tremarella solo che dire bravo bravo bravissimo un torneo vinto quasi scioltezza quasi scioltezza nove anni di distanza dalla dalla mitologica finale femminile fra tutta pugliese fra flavia pennetta e roberta vinci io ti favore robertina vinci quella quella finale là e quando manda a fare in culo il pubblico perché sosteneva ben serena williams mi è rimasta qui robertina vinci a me sarà perché per un anno vissuto a taranto a militare un po facevo il tifo per lei però qua invece in scioltezza ragazzi bravo fritz bravo ragazzo ma diciamo vogliamo dire che non c'è praticamente stata partita è stato un match completamente in controllo tranne va beh il terzo set che è stato un po più equilibrato c'è stato quel break poi su 5 a 4 per cosa c'è stato il contro break e lì poi raga ve l'ho detto questo saranno le origini alto a tesine ma questo è un italiano atipico in tutti in tutto e per tutto un italiano atipico questo qua c'è contenuto anche nella gioia questo è controllato anche nella gioia veramente sembra questo ragazzo la concretezza la praticità fatta persona davvero ribadisco forse non raggiungerà probabilmente non raggiungerà mai le vette dei trettenisti che ho citato prima i federer nadale gioco vici però raga oggi il mondo è suo il mondo è suo e i suoi piedi sono contento sono contento perché forse il tennis italiano sta vivendo il suo periodo veramente duro siamo diventati un po quello che è diventata la spagna nel calcio stiamo diventando quello quello che è diventata la spagna nel calcio tanti anni senza vincere un cazzo addirittura se ne è biseri e cd coppa davis e poi abbiamo vinto coppa davis e due torne islam con poi c'è stato anche coso la che non mi ricordo come cazzo si chiama c'è stato un altro che ha vinto che non ricordo però ma tutti 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 la jarmi paolini pure è un grande è un grande ragazzi è un grande è un grande per noi occasionali di tennis siamo fortunati anche a vedere queste vittorie io poi sportivamente sono fortunatissimo io ho visto il dominio ferrari le tutte le coppe della juventus praticamente ho vinto ho visto due due vittorie mondiali ho visto l'europeo di palacanestro ho visto la nazionale le volle di velasco a me la palavolo sa sul cazzo ma quella nazionale mi emozionava e ora vedo lui e ora vedo lui jannick sinner e che dire ragazzi e mi fa doppiamente piacere perché il vice presidente di federtennis è un barlettano e al momento giusto è una grande persona devo dire una grande persona il dottor alvisi una grande persona insomma jannick fa la storia e adesso non è più un caso signori quindi quei pochi neanche a me sta simpatico sono onesto neanche a me sta simpatico però cosa vuoi quando uno merita merita non ci sono cazzi io lo dissi per quanto e quando riguarda il video di cosola e ora lo dico persino l'intervista cerni di nintendo e ora lo dico persino e ragazzi quando uno merita merita chapeau e bravissimo jannick sinner il mondo è tuo ragazzo il mondo è tuo e voi iscrivetevi al canale